Ciao! Oggi torniamo in Inghilterra per vedere la terza maglia del Manchester United per la stagione 22-23, in edizione player, quella dei calciatori. La terza maglia da calcio Adidas Manchester United 22-23 combina un colore di base giallo ad alta visibilità con sorprendenti applicazioni e loghi gialli. È una combinazione di colori molto moderna, semi solar slime e legend ink. In termini di design la terza maglia dell'Adidas Manchester United è moderna, presenta un motivo a zig zag sul colletto e un motivo in tono su tono sul davanti e sulle maniche. Proprio come la maglia da casa e da trasferta, la terza maglia è dotata di uno stemma schermato. Il Manchester United non ha mai avuto una maglia gialla ad alta visibilità, tuttavia negli ultimi anni questi colori molto elettrici sono stati utilizzati da Adidas per le maglie da portiere del club. Questa maglia è bellissima, dal vivo rende veramente tantissimo. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Devo dire che è stata una bellissima sorpresa. Già sul sito sembrava molto bella ma quando l'ho ricevuta mi sono subito innamorato. Qui in alto vedete il costo, molto basso per una versione player fatta così bene. E vi ricordo peraltro che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e soprattutto anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere per usare, per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Quindi continuate a guardare il video, però prima di farlo vi prego di lasciarci un like e di iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti quali altre maglie vorreste vedere e cosa ne pensate di questa? Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. A presto! A presto! A presto! A presto!